Il primo premiato sul palco è il dottor Nicola Giampaolo. Buonasera. Il primo premiato sul palco è il dottor Nicola Giampaolo. Quindi si può dire quasi l'unico postulatore laico della storia della Chiesa. E nello stesso tempo mi riallaccio a un passaggio precedente del colonnello dei Carabinieri quando ha fatto riferimento ad Aldomoro. La mia prima causa, affidatami da Benedetto XVI, è stata l'apertura del processo di beatificazione del Servo di Dio Aldomoro. Perché dal 16 luglio 2012 è stato elevato agli onori con il titolo di Servo di Dio. E tra l'altro l'altro mio impegno è quello di consigliere d'amministrazione dell'AIAIO che è dell'ente che sovrintende sulla Carta Europea del diritto dell'ammalato. E quindi come vuole recita la Carta Internazionale dell'Uomo, uno degli articoli è salvaguardare la salute ad ogni essere umano. E in modo particolare questa lotta avviene anche in Italia perché proprio in virtù della crisi di cui prima tu parlavi, caro direttore, in molti ospedali, in molte zone, in molti territori, in modo particolare la Calabria, vengono chiusi ospedali e primi punti di intervento. Lasciando interi compresori senza il diritto della salute e dell'emergenza urgenza. Quindi l'ente che io rappresento salvaguarda questi interessi e fino ad oggi siamo riusciti ad evitare la chiusura di tanti ospedali e di tanti primi punti di intervento. Noi abbiamo l'Associazione Alzheimer, io sono il presidente dell'Associazione Alzheimer. Le devo dire che purtroppo anche quei presidi ospedalieri che dovrebbero interessarsi degli ammalati, che vivono nelle famiglie, per cui crea un disagio immenso, crea un dolore e crea un affanno perché naturalmente soffre di più chi è vicino a un ammalato dell'ammalato stesso. Quindi c'è poi quel deterioramento progressivo. Le garantisco che sono abbandonati. Sì, è vero. C'è da dire anche un'altra cosa, che l'ente che rappresento è anche un'associazione di promozione sociale, oltre a garantire sulla Carta Europea del diritto all'ammalato, è il Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale e tra l'altro finanzia anche la ricerca scientifica. Quindi mi impegno che ci potrebbe essere una bella collaborazione affinché per mezzo di questo ente potremmo arrivare a sollecitare gli organi preposti del Ministero della Salute. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Vorrei passare un attimo il microfono al Capitano Miulli. Nulla. Volevo presentare Nicola al pubblico perché non solo è un giornalista ormai affermato della Gazzetta, del Mezzogiorno e del giornale quotidiano di Bari, ma soprattutto perché il suo impegno sociale lo porta un po' in giro per l'Italia e spesso e volentieri ci incontriamo, ci vediamo a Roma e discutiamo proprio di queste emergenze nazionali. Purtroppo anche in Italia, basta guardare un po' la cronaca, è piena di questa emergenza. Il suo impegno, ci tengo a sottolinearlo, è molto vivace perché soprattutto nel campo della sanità ho voluto a tutti i costi che il Comitato e il Presidente prendessero in considerazione la sua candidatura proprio perché tra di noi bisogna seguire questi esempi nel sociale. Impegnarsi nel sociale è molto importante perché ci consente di risolvere questi problemi non solo a livello teorico ma anche a livello pratico, è vero? È giustissimo. Sì, è giusto. Quindi tra l'altro con piacere ogni tanto siamo proprio su Roma, mi viene a trovare in Vaticano quindi parliamo spesso di queste, oggi possiamo dire di queste emergenze sociali e quindi che dobbiamo dire, noi che conosciamo bene il territorio italiano, lo accennava prima il medico del 118, la Puglia viaggia in maniera eccellente sotto il profilo della cosiddetta famosa emergenza e urgenza e quindi anche della presenza della sanità pubblica sul territorio. È vero, sono stati chiusi tanti ospedali, però c'era una motivazione, almeno in Puglia, perché non possono essere aperti ospedali con gli stessi reparti a 10 km uno dall'altro. Quindi se invece si riesce a instaurare quell'emergenza e urgenza formata dai 118, dai primi punti di intervento, dai pronto soccorso e quindi 118 i primi punti di intervento, sono il filtro del pronto soccorso e sono il filtro dei ricoveri, quindi se si sa organizzare la mappatura della sanità pubblica, certamente si va a coprire quelle disfunzioni che lo Stato centrale nell'erogare moneta, quindi toglie il cosiddetto diritto alla salute ai cittadini. La Puglia si può ritenere una terra fortunata, non solo sotto il profilo della sanità, anche sotto il profilo economico, perché io vedo in Italia ci sono veramente regioni dove, lo dicevo prima la dottoressa Bernardini annunzia, regioni dove chiudono negozi ogni giorno. La Puglia ancora continua a resistere e questa vostra manifestazione garantisce anche che anche sotto il profilo della cultura la Puglia ha quel primato che altre regioni non hanno più e perché no, è un dovere di noi pugliesi affinché Lecce sia la futura città della cultura 2019. Io nel ringraziarla di tutto ciò che ha detto e prima di passare alla premiazione, devo dirle che nei giorni scorsi abbiamo ricevuto presso la nostra redazione tantissime mail di complimenti per il nostro sito, ma il più bel complimento me l'ha fatto lei per telefono perché ha detto voi meritate il premio Nobel. E' vero, andate ad aprire il sito del premio Nobel, non arriva a quello vostro. Grazie, grazie. Anche perché tra l'altro con dei giornalisti della Gazzetta e degli amici, bellissimo, straordinario il sito, non ha nulla da invidiare al premio Nobel, quindi onori e gloria all'associazione. Abbiamo tolto le parole per lasciare spazio alle immagini, per cui diciamo molta più praticità anche nel campo dell'arte perché tante volte ci sono dei critici che dietro tutti quei paroloni cercano di creare un mondo nebuloso per impedire all'artista di poter entrare, noi invece in maniera abbastanza, come diceva il professor Mucciaccio, con quella tecnologia riusciamo a dare un'immediatezza e anche a stimolare un intuito nella ricerca dei nostri argomenti che proponiamo. Grazie. Il premio Francesco di Infra degli Assisi viene consegnato al capitano Michele Mugli. Prego. La voce non c'è, diceva giustamente il dottore. Grazie di cuore, grazie assai. Grazie. Io... Possiamo dire una cosa, mi è venuto su, perché Francesco, Francesco, lo dedichiamo al nostro Santo Padre, guarda, sta cambiando e sta diventando il nuovo statista della nuova era, quindi è straordinario. Un grande statista è stato Benedetto XVI che con quel gesto ha lasciato dopo 707 anni un altro segno alla Chiesa e alla storia dell'umanità, è ancora grande, ricordate, quando Benedetto XVI ha dato le dimissioni ha detto non vi preoccupate, Cristo non lascerà mai la sua Chiesa e la risposta è stata in Papa Francesco, quindi dedichiamolo anche a lui, grande uomo di questa terra. Mentre Papa Francesco segna la nuova era, noi abbiamo segnato i nostri premi con Italia in arte, la firma del nostro scultore che tra poco avremo sul palco. Grazie di nuovo, di nuovo, grazie.